Mi è piaciuto moltissimo. Stilax è veramente un capolavoro. Molto emozionante. Io l'ho trovato bellissimo. Molto toccante. Un ottimo film. Splendido, secondo me. Mi è piaciuto molto, mi è molto comodo. Molto intenso. Ha recitato in maniera veramente spettacolare. Questo ufficio si occupa di rintracciare i parenti di chi è morto nel municipio. Ecco, cara mamma, ti ringrazio molto del bellissimo regalo. Quindi c'è una figlia? Con tutto il mio amore a Susie. Susie è la gatta. La firma è l'impronta della zampa. Le viene in mente qualcuno che lo abbia conosciuto? Che magari avrebbe voglia di partecipare al suo funerale? No. E lei, lei non vorrebbe... No. Ho avuto modo di osservarla al lavoro. Lei è scrupoloso. Ma se permette, posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di ramisecchi. Faremo a meno di lei. Farete a meno di me? Potrebbe considerarla come un'opportunità per un nuovo inizio, non crede? Una nuova vita. Signor May, che notizia dal mondo dei vivi? L'ultimo caso. William Stoke. No, non siamo a conoscenza di un'effettiva condanna. Ma vede, il signor Stoke, diciamo, aveva preso una certa piega. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke. Cioè, Big Billy. Che ha combinato? Ha ammazzato qualcuno? Le porto brutte notizie, purtroppo. Così da oggi sono orfana. Hai il mio numero di telefono? Io ho predisposto... La prego, signor May. Non aggiunga altro. Ha già detto così tante cose. E così la figlia di Billy le ha parlato di me. Deve essere una ragazza gentile. Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o... Sì, mi farebbe molto piacere. A venerdì allora. E grazie. Grazie per quello che hai fatto. È solo il mio lavoro.